Alla vigilia del quinto anniversario dell'elezione di Bergoglio a Pontefice a Roma la Federazione Nazionale della Stampa Italiana ha organizzato un seminario proprio sul primo quinquennio di pontificato di Francesco a cui ha preso parte anche il Cardinale Bassetti che rivolgendosi ai giornalisti ha detto fate un buon lavoro nel raccontarlo se coniugate serietà, sobrietà e analisi. Sentiamo. Alla vigilia del quinto anniversario dell'elezione di Jorge Maria Bergoglio a Pontefice a Roma la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, la FNSI, ha ospitato un seminario sui primi cinque anni di pontificato di Francesco. L'incontro, organizzato dall'Uxilazio, è stato anche l'occasione per una riflessione sul giornalismo e sul rapporto fra il Papa e i giornalisti. Il vostro è un ruolo fondamentale per la società, in quanto giornalisti siete chiamati a rispettare e raccontare la verità, ad aiutare con il vostro lavoro le persone alle quali sono destinati i messaggi a far crescere la loro dignità. In questo senso avete una missione evangelica, ha osservato il presidente della CEI e il cardinale Gualtiero Bassetti intervenendo all'incontro. Secondo quanto riferisce il sito della FNSI, il porporato ha poi voluto indicare ai giornalisti tre spunti di riflessione, racchiusi in tre parole, serietà, sobrietà e analisi. Serietà, ha spiegato, che vuol dire amore per la verità. Sobrietà, una parola tanto bistrattata nella società attuale, fatta troppo spesso di urla ed eccessi. E analisi, perché penso che una delle caratteristiche più importanti del lavoro dei giornalisti sia proprio approfondire, indagare. Quando questi tre principi vengono coniugati insieme, ha concluso il cardinale Bassetti, penso venga fatto un buon lavoro anche nel raccontare Papa Francesco. Se invece si preferiscono il pettegolezzo e i titoli strillati, si fa un pessimo servizio perché si semina a Zizzania. Poi, il segretario generale della FNSI, Raffaele Lorusso, ha ripreso i temi che il Papa affronta nei suoi discorsi. La lotta alle diseguaglianze, la povertà, gli ultimi, il valore dell'accoglienza, ma anche quello che è il dramma della nostra società, il dramma del lavoro.